Musica Ciao patatini e patatini, mi vedete truccato e vestito uguale perché sto facendo una carrellata di video uno dietro l'altro, una carrellata, solo tre, vabbè Quando si può si fanno Questo è il video su questo tutorial, su questi capelli mossi ma naturali E' un capello, cioè un'acconciatura che si vede tantissimo in giro ultimamente, almeno nell'ultimo anno perché diciamo che stiamo copiando tanto le americane Si è sempre portata questa acconciatura di effetto naturale però che parte, quel mosso che parte da metà lunghezza in poi Secondo me è molto molto bello e almeno a me piace un sacco per i capelli mossi, io li adoro E secondo me dà un effetto proprio naturale perché, non lo so, sempre elegante, raffinato e cioè perfetto Anche se sei struccata, secondo me i capelli messi bene cambiano totalmente la persona E niente, questo tutorial è semplicissimo, ovviamente l'importante è avere una piastra che riscaldi abbastanza e che riscaldi soprattutto nella parte esterna Ad esempio ci sono molte piastre che in questa parte non riscaldano e l'importante è averla che riscalda L'importante è averla di questa misura, più grossa secondo me tende ad avere, cioè a fare i boccoli semplicemente, cioè troppo squadrati, non lo so Non ho mai provato con quella grossa, vi posso consigliare questa, vi posso consigliare e garantire l'effetto di questo capello con questo tipo di piastra La mia, lo ripeterò anche nel video, è la GHD che molti di voi mi chiedono che piastra ho Se volete farvi un regalo, puntare su qualcosa per i capelli, io vi consiglierei strastra, consiglierei questa qua perché è la signora piastra Di altro cosa dire, niente, io vi lascio il tutorial, scusatemi per la ricrescita e per il colore sbiadito ma sono tipo un mese e mezzo che devo fare la tinta E adesso dovrò andarla a comprare e farmela fare dalla mia mammina, se mi guarda a mamma fammi la tinta E niente, vi lascio al video, bando alle ciance, sbando alle arance, buon video, ciao A molti di voi sono piaciuti i capelli che avevo nei preferiti di febbraio, se non sbaglio era quel video in cui ce li avevo lisci ma mossi alla fine E sono capelli che ultimamente si usano un sacco e sono molto chic Volevo proporveli anche a voi, avendo comunque i capelli di questa misura non posso permettermi di fare chissà cosa Perché è un po' una misura fuffa che dà fastidio, per cui inizio con l'accendere la mia piastra, utilizzo la GHD E niente, incomincio col dividere i capelli a metà dietro, quindi passo l'unghia e divido i miei capelli a destra e a sinistra Questa volta ho fatto la riga di lato, anziché la riga e mezzo per cambiare E li lascio semplicemente così sciolti, adesso che la piasta è pronta vi faccio vedere le prime ciocche Parto da metà però, perché se parto dall'inizio faccio i capelli mossi, mentre noi vogliamo un capello liscio ma mosso alla fine Quindi da metà in poi giro la piastra così a 360 gradi e faccio scorrere piano piano i capelli, la ciocca di capelli Fino a questo, praticamente è davvero un mini boccolo E continuo così sempre prendendo ciocca per ciocca Quindi potete anche prendere capelli, cioè ciocche più spesse, non importa L'importante è che comunque partiate da metà in poi, altrimenti appunto farete dei capelli ricci Io continuo così fino ad arrivare a quelli davanti Ciao Ecco arrivati a questo punto, comunque dopo aver fatto questo procedimento qua, vedete come vengono Dopo aver fatto questa parte qui, ci capita la parte davanti Allora in questa parte, voi di qua potete permettervi anche di fare un mosso diverso, quindi verso l'interno come ho fatto io Questa parte qua l'importante è che sia verso l'esterno, altrimenti vi verranno davanti i boccoli e daranno anche alquanto fastidio Per cui prendo queste ciocche qui e giro la piastra in questo modo, tenendola dritta L'importante è tenerla dritta, altrimenti verranno dei boccoli che partiranno tipo il capello dritto e poi partiranno i boccoli di netto Cioè senza fare quell'effetto ondulato naturale Per cui faccio in questo modo, vedete E il boccolo va verso l'esterno, quindi si racchiude insieme agli altri che ho girato verso l'interno Questo lo posso fare unico, quindi faccio così Quindi posso scorrere anche gli altri, però l'importante è che mi soffermo di più verso la fine in modo da arricciarli di più verso la fine Mi raccomando le punte Et voilà Quindi dopo aver arricciato anche questa parte, vedete come si ingarbugliano tra di loro, che sono molto carini secondo me Intanto che questi riposano, come vedete, anzi vi faccio vedere meglio Questa è la parte liscia e questa è la parte che abbiamo fatto Vado a fare anche questa parte qua, uguale Ok, arrivati a questa parte faccio questo procedimento qui Giro e faccio scorrere in questo modo la piastra E ora l'effetto finale è questo Quindi faccio riposare un attimo i capelli per lasciarli raffreddare e farli prendere la piega Ok, adesso che si sono raffreddati Prendo il mio oro del Marocco, che è questo olio d'argane e semi di lino Proprio una goccettina Vado con questa di stricare i capelli Per fissarli poi utilizzo la lacca spray della Procreen E il risultato finale è questo qua Niente, l'importante erano queste cosine qua che vi ho detto durante il video Ossia partire da metà, quindi da metà della lunghezza partite e tenete la piastra, mi raccomando, mai così Ma sempre comunque in verticale Altrimenti i ricci faranno praticamente questa cosa qua Partiranno dritti Cioè il cappello andrà dritto e poi partiranno questi ricci Che sono comunque finti, orribili da vedere secondo me Niente, questo è l'effetto finale Di nuovo, se avete qualche domanda vi chiedo sempre di scrivermi Sapete che vi rispondo sempre E basta Al prossimo video Ciao patatine patatini Ciao Questo è un video sulla mia Questo è un video sulla mio Sempre verso Perpendico E poi fa l'effetto cane con le orecchie giganti No